Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori in direzione Firenze si registrano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna e tra Lavoria e Ponte del Ovest Ponsacco. Rallentamenti a causa di lavori anche tra la diramazione Pisa Livorno e Lavoria in direzione Livorno. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, anche qui rallentamenti a causa di uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di San Donato che attualmente è chiuso in uscita in direzione Siena. In A1 invece chiusi per lavori i tratti tra Aglio e Pian del Voglio in entrambe le direzioni e tra il Bivio con la variante del Valico e Aglio in direzione Bologna. Chiudiamo con la viabilità della città di Firenze e possibili disagi a causa di un incidente avvenuto alla rotatoria di via Enrico Forlanini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!